Ciao a tutti ragazzi questo è il mio primo video editor cioè fatto col video se secondo me vedete sotto spero che questo video vi piaccia perchè parlerò di una cosa no non si vuole mettere comunque allora faccio i saluti vabbè andate a guardare il video allora volevo dirvi di iscrivervi ai canali cioè da qua vedete che è il telefono di mia nonna quindi non sono iscritta lovi dove molto bello questo canale poi ma soprattutto ti giuro che questa linea la odio ah, cambiate la fotografia della copertina love and friends ah, non si cazzo ai da violetta love and friends iscritta, 53 iscritti qua forse non era iscritta perché, non so comunque era più mai da violetta però qua rispunto sempre ai da violetta poi Sofia Viscardi è me contattata ah, ho mostrato con Sofia Viscardi dai strega molto bello è stato almeno devo vedere se era la vera e ciao a tutti ciao a tutti ciao 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 Grazie a tutti.